È un'emozione, anche se ripeto, ieri sono entrato un po' in una sorta di bolla agonistica e non mi sono nemmeno reso conto di quello che stava succedendo intorno a me, però poi rivedendo i video so che mi rendo conto che è stata veramente una cosa importante per i tifosi.